All the good girls you take out for dinner E ci prova adesso 3-4 adesso L'attacco in fast da partitano da qui Eccola Saikova Dunque, break Bulgaria In eccezione Che riguardano l'Italia In questo tempo la Croazia rimane Un break di svantaggio Spagers finisce di là Il tocco di Galettoni Poi Svantaggio con i piedi Poi di Ricchella Non riesce a chiudere Lo fai E non è l'altro Il ballone Oltre alla palleggiatrice Ilaria Battistoni Alle centrali Todorova Deve gestire Una free ball Però l'Italia Quindi Ha vintato l'attacco A lavorare Per arrivare I prossimi appuntamenti Inizia il time break Fra Italia e Croazia Vedremo Si porterà a casa questa sfida Se la Croazia riuscirà Per il set Il secondo set Una delle migliori In casa Italia Insomma Samadana Per i livelli Il suo pallone Buono In faccio Il muro Vincente Con la nostra Nazionale Un break Questo Il secondo set Per adesso La porta qui Una bellissima alzata E alla fine Lo risolto Bellissimo Il tempo in campo Per la numero 28 Infatti Possibilità di Giocattata d'Italia Ma non proprio Per la Ne ho entrato Per la numero